Dunque, Capurso. Capurso è il paese che mi ha dato i Natali, quindi viene considerato un po' la Re Canati di Puglia ed è famosa anche per, non ha bisogno di presentazione, per la Madonna del Pozzo che ormai penso faccia parte a pieno titolo della Top Ten delle Madonne mondiali ma non solo per la Madonna del Pozzo perché questo paese in effetti nell'ultimo decennio si è dato una svegliata si è rivitalizzato dal punto di vista culturale e anche sociale grazie a un'amministrazione di giovani ragazzi, miei coetanei, molti dei quali erano miei amici da ragazzini per i quali avrei immaginato un futuro diverso che sono nel narcotraffico, invece si sono interessati di politica eventi culturali, jazz, teatro, welfare i capurzesi sono contenti che sono zona arancione così non sono costretti a uscire dal paese e così non gli entrano i trigianesi perché siamo due etnie diverse c'è rivalità ed è bene ogni tanto di distanziarci quindi che dirvi venite a trovarci a Capurso ovviamente non adesso almeno fra 7-8 di PCM oppure venite per comprovati motivi religiosi alla Madonna del Pozzo a pregare che tutto vada bene insomma